Piemontese, il centro-sinistra scende in campo a meno di un mese dalla tornata elettorale. Che area sta percependo in giro a Foggia e sul Gargano? Io vedo tanto entusiasmo, tantissima gente qui stasera, stiamo facendo assemblee, incontri con i cittadini in tutti i comuni della provincia di Foggia. Il Partito Democratico mette in campo, in alleanza con le altre forze, la competenza che deriva anche dalla guida del governo regionale pugliese e di tutto ciò che noi stiamo facendo sul territorio di Capitanale. Piemontese, come si ferma l'onda del Movimento 5 Stelle e l'entusiasmo del centro-destra che secondo i sondaggi ha già vinto? Io ho visto diversi sondaggi che danno anche il centro-sinistra e il PD in ripresa. Se dovessimo stare all'entusiasmo e alla tanta gente che è venuta qui stasera per inaugurare un comitato cittadino, io credo che i numeri sono rassicuranti e l'entusiasmo di tante donne e uomini ci danno fiducia nel rappresentare al meglio Foggia e la provincia di Foggia. Noi volevamo essere della partita e abbiamo contribuito a formare le liste anche grazie all'aiuto che il presidente Emiliano ha voluto riconoscere alla nostra rappresentanza civica con l'idea però di poter raccontare il nostro territorio, di poter movimentare i nostri amministratori. Abbiamo molto da raccontare su quello che abbiamo fatto in regione e abbiamo poi una grandissima capacità di aggregazione che è anche evidente per le tante persone che oggi sono qui presenti. Nella coalizione di centro-sinistra due marchi di fabbrica del civismo di Capitanata come Rosario Cusmai e Massimo Russo, che cosa si aspetta da questi due candidati? Mi aspetto che raccontino le proprie esperienze, le proprie competenze, che siano a fianco di quelle amministrazioni che vogliono avere sempre più un peso determinante nell'elaborazione delle strategie, non solo regionali ma anche nazionali. Noi abbiamo messo a disposizione due professionalità, che sono le professionalità di chi viene dal mondo del lavoro e chi viene anche contemporaneamente da un lavoro istituzionale importante.